Un'intervista lunare a un personaggio immaginario, l'ipotetica guida spiritual-calcistica di Arrigo Sacchi per definire le traiettorie del pensiero filosofico che la vita avvolge intorno a una sfera, il tanto amato pallone, in scena per la sezione sport-opera del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, Don De Caedro con Antonio Marfella, che neanche autore, e Gian Piero Schiano. Un pallone da calcio ha la stessa figura geometrica della forma dell'universo. Potrebbe essere una coincidenza e potrebbe anche non esserla. Durante quest'intervista, questo personaggio fantomatico, forse realmente esistito, ripeto, alter ego di Arrigo Sacchi, o meglio, consulente spirituale, fustigatore tattico di Arrigo Sacchi, questo personaggio spiegherà i motivi di questa presunta coincidenza. Il personaggio Don De Caedro è un personaggio veramente molto 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 particolare, quindi lo spettacolo gioca tutto su questo, perché poi è semplicemente, la struttura è molto semplice, uno studio televisivo, come se fosse proprio una trasmissione televisiva, dove c'è un intervistato e un intervistatore, e si gioca tutto così. Quindi il personaggio è molto divertente Don De Caedro, perché è anche un accento, diciamo, sembra nella parlata un ignorante, ma in realtà è un uomo di grande cultura, quindi può trarre in inganno e quindi, ahimè, l'intervistatore è in netta difficoltà. Sul palco del Teatro Nuovo riproposto il set di un'ipotetica trasmissione sportiva, con interviste al personaggio, tra incomprensioni e rivelazioni, guizzi filosofici e rimandi alla letteratura, si parla in maniera arguta di un argomento capace di catalizzare l'attenzione di milioni di persone. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival dell'EFA, è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo anno del Ministero della Cultura.